Ciambellone al caffè con le noci e sopra tanto zucchero a velo. Alto, umido e sofficissimo. Rompi tre uova in una ciotola o nel vaso della planetaria. Aggiungi lo zucchero di canna e monta il tutto fino ad avere un composto alto e spumoso. Preparati un bel caffè, ma non berlo, servirà per l'impasto. Sciogli il burro al microondo in un pentolino e lascialo intiepitire. Unisci la farina e la fecola setacciate alle uova e aggiungi anche il burro. Vai con il caffè, unisci anche il lievito e monta per bene il tuo impasto. Nel frattempo sguscia le noci, io ti consiglio di comprarle intere, sono molto più aromatiche. Trita le grossolanamente in un mixer e aggiungile al tuo impasto. Diventerà ancora più profumato e con una piacevolissima nota croccante. Versa tutto in uno stampo imburrato e infarinato e via in forno. 40 minuti a 180 gradi e voilà, guarda che bontà! Completa con tanto zucchero a velo in superficie e gustati una bella fettona. Morbida, morbida, alta e umida come piace a me. Perfetta colazione e merenda in qualunque momento della giornata. Assaggiamo! Mmm, buonissima!